Ciao a tutti, benvenuti su Espo un Video. Questa è una nuova lezione di vocabolario e oggi parliamo di... Pronto, presto, carta, lettera, imbarasso, gravidanza, toaglia, asciugamano, oficina, ufficio, e stanco, tabaccheria, andar, camminare, guardar, conservare, nudo, nodo, esprimir, spremere, arroz, riso, pelo, capelli, salir, uscire, inseguita, subito, azeite, olio, espalda, schiena, caldo, brodo, Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.